buongiorno a tutti quanti ragazzi benvenuti nel canale gameplays 1973 channel un saluto dal vostro amico salvo oggi ho deciso di rispondere alla community di bloodbord utilizzando il loro stesso hashtag ritorno e togli arman cioè il ritorno agli arman scusate il mio inglese ma sono un po scarso utilizzerò insomma quell'hashtag per creare un nuovo personaggio e come ho già detto a quelle 20 persone che mi hanno chiesto gentilmente se potevo realizzare una guida più completa del gioco io li accontenterò oggi alle 15 entremo in diretta live su bloodbord credo in diretta live un nuovo personaggio e lì vi spiegherò in maniera dettagliata tutto il gioco tutti i segreti tutte le gemme e quant'altro ragazzi quindi non mancate a questo appuntamento fate passaparola e vi aspetto in diretta live su bloodbord in più allegherò l'articolo che state avendo qui sul video dove la community sta rilanciando il ritorno di bloodbord perché come so io e come sanno loro e come sappiamo tutti quanti i fan di bloodbord sappiamo che uscirà bloodbord 2 senza se e senza male quindi allegherò poi l'articolo allegherò e nella mia diretta live metterò come hashtag questo di qua che vi ho detto prima scusate se l'ho pronunciato male ma metteremo questo come hashtag quindi non mancate ragazzi vi aspetto alle ore 15 ciao alla prossima ragazzi